Ciao amici benvenuti o bentornati su Byte Retro One, il canale di retrocomputing per passione e un pizzico di nostalgia dove parliamo di home computer e microcomputer degli anni 70 e 80. Nella scorsa puntata ci siamo occupati di lettori flop disk della Commodore realizzati per il VIC-20, il Commodore 64 e il C128. In questa puntata continuiamo la carrellata di disk drive, questa volta però ci occupiamo di un modello molto particolare, stiamo parlando del Commodore 1551 realizzato dalla Commodore per la serie 264, cioè per il Commodore 16, il Plus 4 e il C116. Per fare questo andremo ad aprire questo pacco che è appena arrivato e contiene appunto il Commodore 1551. Ma come dico sempre, bando alle ciance, mettetevi comodi, cliccate su mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo subito dopo la sigla. Bene, rieccoci amici, andiamo subito ad aprire questo pacco che contiene il Commodore 1551. Andiamo quindi a vedere da vicino questo Commodore 1551 che a detta del venditore dovrebbe essere completo e funzionante. Speriamo naturalmente che sia così e facciamo i dovuti scongiori. Andiamo a vedere la scatala originale. Leggiamo appunto il nome del disk drive, modello 1551 e il paese di produzione, cioè il Giappone, Made in Japan. All'interno troviamo il set del 1551 completo con tutti i cavi e la manualistica. Andiamo a vedere nel dettaglio tutto il contenuto della scatola. Troviamo naturalmente il cavo di alimentazione e la rete elettrica con spina tipo Schuko. Passiamo poi alla manualistica con un primo manuale d'uso in lingua tedesca, con una copertina mutuata dal 1541 ma poi vedremo non solo la copertina. Passiamo poi all'user guide in lingua inglese, con copertina lucida. Molto utile, molto più utile rispetto a quella in lingua tedesca per chi non conosce la lingua germanica naturalmente. Leggiamo la data 1984. All'interno troviamo tutta una serie di informazioni. Addirittura troviamo anche la bustina in serice per conservare il materiale nella scatola. E siamo giunti quindi a scoprire questo bellissimo, di colore nero, elegantissimo 1551. Togliamo i polistiroli, facendo attenzione a non romperli. Ed eccolo qui, sembra un 1541 vestito in smoking, tutto nero. Nella parte inferiore le classiche aperture per la presa d'aria. E allora ammiriamolo, questo elegantissimo 1551 in abito da sera. Bello, elegante, vestito a festa. Vediamo che senza segni, senza graffi, in pratica proprio pari al nuovo. Si vede che è stato utilizzato pochissimo. Dopo averne apprezzate le doti esteriori, andiamo a vedere come è fatto dentro il 1551. Per fare questo dobbiamo svitare le quattro viti poste nella parte inferiore. Per fare prima abbiamo preso un altro 1551 dove abbiamo già svitato le quattro viti poste nella parte inferiore. Togliamo quindi la scocca superiore per accedere alla parte interna e ammirare quindi come è fatto dentro il nostro Commodore 1551. Credo che sia molto interessante vedere e mettere a confronto il 1551 chiuso con il 1551 aperto. Una particolarità interessante della scheda madre è sicuramente la CPU. Il 1551 infatti monta un modello modificato del 6510 denominato MOS 6510T appositamente realizzato per il 1551. Qui possiamo ammirare il meccanismo di apertura e di chiusura a levetta per il bloccaggio del floppy disk all'interno del drive. Possiamo quindi vedere la testina di lettura e di scrittura. In caso di guasto della parte meccanica possono essere prese a ricambio le parti di un 1541. Infatti quasi sempre il 1551 monta una meccanica Mitsumi Neutronics. Facendo una ricerca per immagini su Google scopriamo che tutti i Commodore 1551 che ci escono sono con chiusura a levetta cioè con meccanica Mitsumi Neutronics. Ma è proprio così scopriremo più avanti invece che ci sono delle eccezioni. Beh bello questo nostro 1541 ma a noi non basta solo vedere quanto è bello. Vogliamo sapere qualcosa di più, vogliamo indagare più a fondo. E per fare questo partiamo proprio dai manuali d'uso. e vediamo quale informazioni possono celare. E da questo poi partiremo per vedere, per scoprire altre particolarità e notizie interessanti. Sfogliamo quindi il manuale d'uso in lingua inglese per vedere quale informazioni utili possiamo capire oltre a quelle del funzionamento della macchina naturalmente. Vediamo il collegamento al Plus 4 e la particolarità di poter collegare in serie 2 Commodore 1551. Vediamo poi la lista del contenuto del disk demo a corredo della confezione della scatola contenente 1551. Passiamo quindi al manuale invece in lingua tedesca e scopriamo che esso non è altro che un classico manuale di un WC 1541 a cui hanno attaccato l'etichetta, hanno aggiunto quindi l'etichetta con la scritta 1551. Infatti se lo apriamo scopriamo che si tratta proprio del manuale del 1541. Eppure le immagini sono riferite al Commodore 1541. Importanti informazioni si possono ricavare anche dalle riviste dell'epoca come Commodore World volume 2 numero 6 del 1995 dove riporta un articolo interessante sulla storia di disk drive della Commodore. Del 1551 scrive che essa è una versione migliorata del 1541 realizzata per la serie 264 della Commodore. Anche se esteticamente molto simile al 1541 differisce da esso per molti aspetti. Innanzitutto per il colore ma soprattutto per il tipo di interfaccia di collegamento al Plus4 e al C16 che avviene attraverso uno speciale cavo ad interfaccia parallela. Questo permette al 1551 di essere più veloce nel trasferimento dei dati di 4-5 volte rispetto a 1541. Prosegue poi dicendo che una ricerca suggerisce che 1551 possono essere sia con Mechanical Alps che Neutronics e a differenza degli altri disk drive della Commodore che possono essere collegati fino al numero di 4 disk drive al Commodore 64 per esempio per il 1551 solamente due unità possono essere attaccate in serie al computer della serie 264 cioè Plus4, C16 e C116. Durante la fase di sviluppo questo drive si chiamava SFS481 dove SFS probabilmente stava per Super Fast System o qualcosa di simile. Ma comunque durante la fase di sviluppo questo drive aveva acquisito diversi nickname come per esempio Teddisk o Kennedy Drive probabilmente il riferimento era Ted Kennedy, il famoso politico americano cosa molto curiosa in quanto lo sviluppo di questo disk drive era finalizzato principalmente per il mercato europeo. Otterrò le informazioni possono essere prese nel manuale utente del Plus4 che definisce l'unità disco come SFD481 e la chiusura a click tipica delle meccaniche Alps. Anche la scheda commerciale ufficiale mostra l'unità ancora in fase di sviluppo. Nelle brochure, nelle pagine commerciali ritroviamo quasi sempre il 1541 abbinato al C16 o al Plus4 tranne per una pagina Vobis del 1988 dove ritroviamo finalmente il 1551. In pratica abbiamo una scheda commerciale Commodore con unità disco ancora in fase di sviluppo del 1984 e una scheda Vobis del 1988 quando la serie 264 era ormai fuori produzione. La conclusione a cui sono giunto è che esiste un primo modello è un modello di sviluppo con chiusura a click e meccanica quindi Alps e un modello successivo prodotto su larga scala con chiusura a levetta e meccanica Mitsumi Neutronics. Anche il libro Tutto quello che puoi fare con il tuo Commodore 64 riporta un interessante paragrafo sui nuovi prodotti annunciati dalla Commodore in quell'anno tra cui l'SFS 481 Fast Disk Drive Un disk drive simile a 1541 ma che però non può essere utilizzato col Commodore 64 poiché concepito per il C264 e il V364. Infine sulla rivista RAN volume 1 numero 4 del 1984 troviamo una foto del guru dei Commodore Jim Butterfield durante la dimostrazione della serie 264 e del Disk Drive SFS 481 al Winter Consumer Electronics Show di Las Vegas. Passiamo ora alla prova pratica del Commodore 1551 abbinato ad un Plus 4 e per fare questo utilizzeremo il disco del gioco Summer Olimpiadi cioè un gioco dedicato appunto alle Olimpiadi Estive. Carichiamo il gioco e dopo pochi attimi il gioco viene caricato. La sigla iniziale ci permette di assaggiare le doti grafiche e sonore del Plus 4. e poi il primo gioco che ci viene presentato è il butterfly cioè il nuoto con stile farfalla questo è uno dei giochi che diciamo causavano la distruzione dei joystick poiché per poter giocare bisognava muoversi e muovere la levetta in modo convulsivo il livello successivo è il salto con l'asta proviamo e abbiamo fallito riproviamo col salto niente da fare il prossimo gioco è il lancio con il giavellotto proviamo il lancio è praticamente zero perché non abbiamo superato almeno la pista di rincorsa riproviamo facendogli fare la rincorsa ecco che si prepara al lancio corre 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 niente abbiamo corso troppo passiamo alla prossima gara si tratta del tiro al bersaglio vediamo se riusciamo a colpire i piattelli quindi è un tiro al piattello più che tira bersaglio per ora non abbiamo colpito neanche uno adesso uno niente anche questo gioco niente sono scarsissimo riproviamo niente ci rifacciamo con la prossima gara i tuffi dalla piattaforma primo tuffo ci prepariamo doppio avvitamento caduto col culo secondo tentativo dalla piattaforma più bassa doppio carpiato e caduta di schiena riproviamo con il prossimo gioco praticamente la corsa in bici quindi ciclismo proviamo ma diciamo che anche qui siamo abbastanza scarsi sto muovendo a destra e sinistra il joystick forse ho capito praticamente bisogna simulare la pedalata quindi non muovere a destra e sinistra il la leva del joystick ma ruotarla a simulare diciamo l'azione della pedalata ecco che rimontiamo rimontiamo grande volata siamo passati avanti quasi testa a testa adesso rimontiamo ancora siamo in leggero vantaggio stiamo per vincere non ce la possiamo fare ce l'abbiamo fatta almeno un gioco l'abbiamo superato passiamo al sollevamento pesi afferriamo la sbarra con i pesi tentiamo il sollevamento ma zero niente non ci siamo riusciti riproviamo alzata e caduta niente siamo scarsissimi in questo gioco quindi forza nelle braccia appare a zero riproviamo scarso e con questo cari amici abbiamo definitivamente confermato la mia scarsa capacità di gioco bene amici siamo giunti al termine anche di questo video dove abbiamo visto tante cose riguardo al questo fantastico commodore 15 51 un particolare flop disk drive della commodore per la serie 264 spero che il video vi sia piaciuto in tal caso vi invito a mettere like al video cioè cliccare sul pollicione e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per non perdere i prossimi contenuti a me non resta che salutarvi e aspettarvi numerosi ai prossimi video ciao ciao